Il Comune di Teramo con ogni probabilità non parteciperà all'asta per rilevare la quota privata della Team, una situazione su cui invece l'imprenditore terramano Iachina ha già inoltrato la sofferta al Tribunale. Secondo il Comune di Teramo il valore fissato dalla curatela fallimentare nominata dal Tribunale in Venezia è troppo alto per il pacchetto azionale del 49% dell'Enertec, la società che ne era proprietaria prima di chiudere i battenti. La decisione, se confermata, andrebbe a sfumare la prospettiva di una Team totalmente a capitale pubblico annunciata in campagna elettorale dal sindaco D'Alberto. Una situazione su cui però i sindacati chiedono uno sforzo al Comune per acquisire la parte messa all'asta della Teramo Ambiente. Noi come CGL in tempi non sospetti dal 2014 chiediamo al Comune, al loro sindaco Brucchi, all'attuale sindaco che la Teramo Ambiente dovrebbe diventare tutta pubblica tenendo conto che il privato, giustamente, se viene perché vuole garantirsi un tot di soldi praticamente come guadagno, non è che viene a portare dei regali. Per cui noi siamo affinché la Team diventi tutta pubblica. Adesso c'è questo problema che Venesi, il curatore parlamentare, ha messo in paglio per 1.200.000 euro le azioni dell'ex Airtec, però io credo che il Comune di Teramo dovrebbe fare uno sforzo affinché acquisti queste azioni, perché penso che a lungo andare questo faccia bene all'Ateam e ai cittadini della Mani.